Dove c'era la cantoniera, la casa cantoniera, se l'avete notato, c'era una chiesetta. Sotto quella chiesetta, ma proprio adesso è stata parte realizzata di un marciapone di Piotto. Però, la primavera di un marciapone che si arriva a quella formazione di fosse quasi comuni, perché io ho visto personalmente delle cose simili, come formano, a dei trapezzi. Quindi l'albero, l'ho visto grande, ma è la base della situazione.